9. Sapere molto Che cos'è la cultura? Commento È uno strumento che cerca di avvicinare l'uomo alla verità attraverso la conoscenza. Come tale, la cultura non è necessaria per ampliare il sentire, ma è una delle molte vie che la mente usa per capire molto ma non per comprendere, perché il comprendere è un raggiungimento della coscienza.